La mozione si è fatta anche portavoce, fatto su questa mozione e i risultati che ci attendiamo. Fa votare il parere sul decreto per gli amministratori sociali, quindi la collega Giudicevole Fanucci. Dico solito una cosa premessa, sarebbe quella del termalismo. Sono eccellenze, noi chiamiamo eccellenze la conteggiare periodi della stagionalità, comunque penalizza i lavoratori stagionali, il turismo e per gli anni successivi continua questo criterio di penalizzazione.